Ha confessato tutto Federico Ferrini, la 37enne casentinese in carcere dallo scorso venerdì ha ammesso di essere stato lui ad uccidere Maria Venacio de Sousa, la 60enne brasiliana ritrovata senza vita lo scorso 26 agosto all'interno del suo appartamento in Via della Robbia. È stata una sua precisa scelta e sicuramente di fronte a una precisa scelta del cliente, anche l'avvocato, bisogna anche tener conto del fatto che il comportamento processuale ne verrà spero tenuto conto anche a livello di sentenza. Il giudice Fabio Lombardo al termine dell'interrogatorio di garanzia ha così confermato l'arresto dell'imprenditore agricolo. Federico Ferrini è arrivato al Palazzo di Giustizia a Retino questa mattina attorno alle 9. Di fronte al GIP ha confermato quanto raccontato lo scorso venerdì davanti agli agenti della mobile, parole che però in quel caso non avevano valore di prova perché resi in assenza di un difensore. Sicuramente ha ribadito di essere stato lui, ha confermato di essere stato lui, però insomma ci sono tutti i vari aspetti che comunque sicuramente andranno accertati e confermati. Il 37enne ha così raccontato di aver ucciso la donna con la quale in passato aveva intrecciato una relazione sentimentale che si era conclusa però con i ricatti della 60enne che sarebbero andati avanti per oltre due anni. Una storia burrascosa finita in tragedia. Sicuramente è pentito, vive in un momento di trance, ha detto ha vissuto quei momenti, vediamo un po' anche ora. Per l'uomo l'ipotesi di reato al momento resta quella di omicidio volontario, non sarebbe infatti contestata la premeditazione. Quella notte il 37enne si era presentato a casa della donna con una spranga di ferro, quella quale poi l'avrebbe colpita tre volte alla testa prima di stringerla attorno al collo una corda. Lui ha dato una ben precisa motivazione perché tanto ha già gli atti, ho visto perché più volte questa signorella non gli aveva aperto la porta. Quindi era il modo per poter, comunque lui aveva bisogno di fare questo chiarimento, era per aprire la porta. Cosa doveva chiarire? Tutta una serie di rapporti fra loro e quello che ho detto prima che insomma preferiscono affrontare in questo momento. Federico Ferrini al termine dell'udienza è stato riportato nel carcere a Retino di San Benedetto. La difesa adesso sta valutando ulteriori accertamenti. Naturalmente dovrò nominare anche io degli esperti, vediamo un po', ho chiesto già al PM di poter visitare il luogo dove è avvenuto il fatto, anche per potersi rendere conto meglio della situazione. Si valuta anche una perizia psichiatrica? Vediamo, fra le tante ipotesi vediamo anche questa.